Due cantieri attivi in via Vecchia a Retina a Laterina Pergine che cambieranno il volto della strada che unisce la frazione di Montalto al centro di Laterina. Il primo è un'opera pubblica e riguarda il rifacimento completo del ponte di Casanova. Una spalletta del piccolo impalcato crollò a dicembre 2020. Da quel momento è attivo un senso unico alternato. I lavori, conclusi per una metà del ponte, sono stati finanziati dalla provincia di Arezzo per 410.000 euro circa. L'apertura al traffico, completa due corsie, è prevista per ottobre di quest'anno. A circa due chilometri di distanza è invece attivo il cantiere privato della cooperativa Sereni Orizzonti per la costruzione della nuova RSA. Demolita la vecchia struttura della tabaccaia, entro fine anno dovrebbe essere allestito il cantiere per la costruzione del nuovo immobile, che sarà molto simile alla struttura che era presente fino a pochi giorni fa. Una casa di riposo da circa 80 posti che darà lavoro e riqualificherà un'area abbandonata da decenni. La cooperativa, come dà accordi con il Comune, rimetterà a nuovo anche il camminamento che dalla tabaccaia arriva nel centro del paese. Difficile dare una data precisa di fine lavori, ma è auspicabile pensare che possa essere tagliato il nastro intorno a fine 2025-inizio 2026.